Amici del Bardo, anche oggi sono qui con tutte le ultime news dal mondo del pro wrestling. Ma prima, qualche veloce comunicazione di servizio. Oggi la serata wrestling inizia alle 18.55 circa su Sky Sport 2 con NXT. Dategli fiducia. Al commento ci saremo io e il padrino, Salvatore Torrisi. Per chi ha solo l'abbonamento basic di Sky, beh, allora segnatevi il canale Sky Sport Mix, il 106. Perché al venerdì, quindi anche oggi, alle 21, già da qualche settimana, c'è una succosa e corpulenta sintesi dell'ultima puntata di Raw. E poi, alle 23, c'è This Week in Esports, la trasmissione dedicata ai videogiochi competitivi che si avvale anche della mia voce. Quindi, se non uscite, se siete in casa, se non avete niente di meglio da fare, potete farvi tutta la carrellata. Sintesi di Raw. Poi c'è una breve pillola, 10 minuti di Goal DJ, che comunque c'è di letta le otto, è un bel vedere. E poi, This Week in Esports. Andiamo alle news. Ieri, Sasha Banks e Alexa Bliss hanno combattuto nel live event WWE di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. E come vi ho, e vi avevo già riferito, sono entrate nella storia della compagnia, visto che loro è stato il primo match femminile proposto dal vivo in quella nazione. Per sensibilità verso gli usi, le tradizioni e le credenze religiose locali, Sasha e Alexa si sono esibite con costumi interi e particolarmente coprenti. Per intenderci, è come se avessero combattuto con delle enormi calzamaglie, con dei tutoni. Insomma, non vedevi un centimetro di pelle che non fosse quello del volto. Però è caduta una barriera, che sin lì si era dimostrata invalicabile. Per la prossima puntata di Raw, il sito ufficiale della WWE ha annunciato tre match che si aggiungono al già noto Kane contro Braun Strowman. E sono Roman Reigns contro Cesaro, Dean Ambrose contro Samoa Joe e Seth Rollins contro Shemus. Quindi, sulla carta, Martedì, su Sky Sport, avremo di che divertirci. Chiudiamo con tre notizie brevi, ma comunque curiose e interessanti. La prima riguarda Lana, che a Total Divas ha rivelato come al momento preferisca dedicarsi alla sua carriera e dunque non ha intenzione di avere figli. Insomma, non è una delle sue priorità. Rusev, invece, sarebbe di tutt'altro avviso. Lui vorrebbe espandere il nucleo familiare. Però, alla fine, la coppia ha raggiunto un compromesso e ha deciso di aspettare tra i 5 e i 10 anni prima, eventualmente, di arrivare appunto a questo momento, chiamiamolo così, prima di moltiplicarsi. Dagli States spira un forte rumor che vorrebbe la WWE molto interessata nello svolgere un pay-per-view in Australia durante il 2018, presumibilmente verso la fine, settembre, ottobre, novembre, quei mesi lì, approfittando dalla sua attuale enorme popolarità in quella zona geografica ed è il Melbourne Cricket Ground che è una struttura che può arrivare a contenere addirittura sino a 100.000 spettatori. Se ci saranno novità, bitterro informati. Chiudiamo con una news che riguarda il revival. A volte mi chiedete qualche update su di loro. beh, stando alle previsioni attuali, il Tech Team dovrebbe tornare in azione verso la fine di gennaio. Scott Dawson sta infatti rispettando la tabella di marcia di recupero dall'infortunio al bicipite che l'ha costretto allo stop e dunque c'è un cauto ottimismo riguardo ai due ex campioni di NXT. Direi che per oggi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per l'ascolto. Il canale ha un sacco di altre rubriche quindi restate qui, date un'occhiata, andate in giro e noi ci vediamo nell'immediato futuro qui a casa mia. Ma nel frattempo dita Roventi. Potete commentare qua sotto tutte le news che vi ho messo sul tavolo. Dal Bardo Michele Posa grazie ancora per l'ascolto e ciao!